Tutto a posto, Shiro. Tutto a posto, Manu, te? Bene, bene. L'attitudine che mette sul palco sembra che già è un professionista di sta roba qua. La scorsa volta hai fatto bene, bro. Adesso devi fare meglio. Speriamo, vai. Let's do it. Andiamo a Milano, tutti su con le mani, tutti su con le mani, se condiviano nel posto. Ok, ok, yeah. Scusa, Manuè. L'ho provata tutto il giorno, Fran. L'ansia del rapper. Che dite, gliela facciamo rifare, vai? Ma l'ho sentito, vai, gliela facciamo rifare. Shiro, questa è l'ultima possibilità, frato. Magno il tuo microfono, bro. Ecco. Grazie.